C'era la volontà, c'era il progetto, adesso c'è anche una data, 5 luglio 2020. E questo è il giorno che sancirà ufficialmente l'avvio della raccolta differenziata porta a porta in tutta la città di Trani. I cassonetti della spazzatura sulle strade hanno i mesi contati. Organico, alluminio, plastica, carta e vetro saranno rigorosamente separati in modo da riciclare il maggior numero di rifiuti possibili che saranno raccolti casa per casa in giorni prestabiliti dagli operatori dell'Ami. Le modalità del nuovo servizio sono state illustrate questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città. Partiamo, siamo convinti di partire. Finalmente partiamo, era uno degli obiettivi di governo dell'amministrazione del sindaco Bottaro. Cercheremo di offrire ai cittadini un servizio di qualità. La città lo chiedeva con forza il passaggio a questo tipo di servizio. Adesso speriamo che i cittadini, come dire, siano pronti per rendere quel servizio, come dire, in maniera migliore rispetto a quello che è stato fatto in passato. La marcia di avvicinamento al nuovo sistema di raccolta si svolgerà a tappe. La prima è quella del 16 marzo, quando comincerà la distribuzione dei kit destinati a famiglie e attività commerciali. Avremo 30 operatori specializzati che distribuiranno l'attrezzatura e forniranno agli utenti tutte le informazioni. Questa attività, diciamo, si protellerà per i primi, per 90 giorni, quindi dovrebbe concludersi entro il 15 giugno. Ci siamo presi altri 15 giorni di margine di sicurezza per eventuali, diciamo, ripassi. In questo, diciamo, processo e anche nella fase successiva del porta a porta, ha un ruolo decisivo il centro comunale di raccolta. Vogliamo che i cittadini tranesi familiarizzino sempre di più con un elemento che è essenziale nel momento in cui partirà la raccolta porta a porta, poiché è una valvola di sfogo fondamentale dove recarsi nell'ipotesi in cui ci siano delle esigenze particolari. E ciascun cittadino sarà chiamato a fare la propria parte per garantire il corretto funzionamento del nuovo servizio. Questa grande voglia di iniziare la differenziata porta a porta si deve tramutare anche in grande disponibilità da parte dei cittadini. Una volta terminata la distribuzione dell'attrezzatura e con l'acquisto dei mezzi il pallino passa nelle mani della città. Ogni cittadino dovrà rendersi molto disponibile, avere grande pazienza per cambiare le proprie abitudini. Sono convinto che superato il primo periodo, cambiate le nostre abitudini, diventeremo veramente anche noi una città virtuosa. La città lo aspettava da tanto tempo, ora ci aspettiamo noi tanto dalla città.